Eccoci amici con una tua partita small, un bigliettino da 3, si ha dato due numeri, il 23 e il 43 e vediamo un po' quello che abbiamo preso. Allora il 23 che dà 10 euro e il 43 al più 10, bene, 20 euro, grazie che ho prestito, bella vita e buona un bigliettino da 3, ragazzi a tutta me e alla prossima, ciao ciao.